Allora, adesso tocca Carlo Rognoni. Non dirò che è stato un grande direttore di giornale, non dirò neanche che è stato un consigliere d'amministrazione. Mi ricordo che quando lui non venne confermato dal CTA, molti di noi rimasero abbastanza sorpresi e mi limito, dato che oggi è la giornata mondiale della gentilezza. Non l'ho detto a frati questa cosa che poteva essere pericolosa per lui. Da quel momento lui ha cominciato un lavoro intorno alla RAI, intorno alla comunicazione, che forse alla politica di quell'epoca gli conveniva tenerlo al consiglio d'amministrazione. È il più bel riconoscimento che ti posso fare. Ti ringrazio molto. Io parto dalla domanda, mi sono fatto la domanda, ma perché è importante cambiare il sistema di governo della RAI? E io mi rispondo così. Perché è finita un'epoca, quella della televisione nazionale, tradizionale. E perché il sistema politico, questo è il secondo aspetto, i partiti in generale, sono in crisi, una crisi di rappresentanza, di legittimità, di democrazia. Quindi due pilastri che sono la storia della tradizione dell'informazione con l'arrivo dell'internet è caduto un pilastro. E sta cambiando. È una specie di tornado che si è abbattuto su tutto il sistema dei media, a cominciare dai quotidiani, ma arrivando anche alle televisioni. E poi perché il sistema politico è in crisi. E dato quello che è stato detto, come si può immaginare che oggi tolleriamo che il sistema dei partiti che è in questa crisi sia quello che gestisce uno dei punti più delicati e strategici dell'informazione? L'attuale governance, quella di oggi, nasce con la legge Gasparri e soffre di due handicap mostruosi, che finiscono per ostacolare la possibilità della RAI di stare bene sul mercato e di svolgere un ruolo appropriato e anche rinnovato come è necessario di servizio pubblico. Il primo handicap è esquisitamente politico. Il legame ancora troppo stretto con gli interessi dei partiti, che in un caso coincidono con gli interessi di un partito in particolare che è anche proprietario di un pezzo della televisione commerciale. Anzi, dell'unico grande pezzo della televisione commerciale. Il secondo handicap è più legato all'efficienza manageriale, alla necessità di una profonda riorganizzazione dettata dalla recente rivoluzione tecnologica digitale. Si tratta di una svolta storica, che l'attuale sistema di configurazione del vertice, l'avete sentito, e non è in grado di interpretare. Un direttore generale, costretto a contrattare ogni decisione con un consiglio di amministrazione di nomina partitica, finisce per vedere drammaticamente frenate anche le sue poche iniziative, se non addirittura ridotti i suoi poteri di scelta. E questo oggi, che sono necessarie più che mai delle scelte rapide, forti, una gestione aziendale efficiente, non può essere condizionata dai tempi che sono inesorabilmente lenti di una politica intrusiva. Allora, come uscirne? E io qui ho fatto una proposta, e quindi ve la sottopongo, che è una proposta che secondo me rovescia il quadro e apre a un confronto serio nel Paese. Propongo una nuova governance della RAI. Come? Con quali obiettivi, intanto? Primo, io penso che bisogna ridare alla politica il compito alto che le spetta, che è quello di definire la missione e il ruolo del servizio pubblico dell'audiovisivo al tempo della rivoluzione digitale. Due, liberare la nuova RAI dai vincoli impropri dovuti al controllo dei partiti sul governo quotidiano dell'azienda. Terzo, creare per la nuova RAI le condizioni affinché il servizio pubblico dell'audiovisivo trovi efficienza, stabilità, managerialità al tempo della cross-medialità, diventando una componente innovativa di un welfare state moderno, in grado di contribuire al rafforzamento della democrazia e allo sviluppo della società. Infine, proporre un modello diverso e più efficiente rispetto a quello, la fondazione, l'avete sentito descritta precedentemente, che fu proposto nella passata legislatura e che ha trovato davanti a sé un muro di gomma e non è diventato realistico. Io credo che oggi bisogna avere i piedi per terra e se si vuole cambiare davvero, come dice il titolo di un articolo del Sole 24 ore di ieri, il momento per la riforma della RAI è adesso, ma il momento per la riforma della RAI è adesso, secondo me era già prima, ma comunque bisogna sapere con chi si ha a che fare e dove siamo. E allora qui faccio un inciso velocissimo. Cambiare la RAI è forse la partita politica più difficile per questo governo, in questo Parlamento. È vero che questo Premier sembra non avere limiti, soprattutto se pensiamo a quello che ha detto. Però ha detto basta con i partiti che gestiscono il servizio pubblico, prendiamolo sul serio. Il che vuol dire cambiare il sistema di governo alla Gasparri. Ma non solo, via il canone per come lo conosciamo, eccetera, eccetera. Ma non dimentichiamo che questo governo si regge su un patto con un signore che ha delle televisioni e che ha degli interessi. E quindi è una partita dura, difficile, che secondo me va incoraggiata, va aiutata. E se è vero che il momento per la riforma è arrivato adesso, bisogna assolutamente spingere in quella direzione. Ora, il modello al quale ho pensato io è un modello che è ispirato al sistema cosiddetto duale, che è stato già sperimentato con successo in parte nel sistema bancario, che peraltro sta evolvendo, e che altre imprese pubbliche stanno studiando. Il modello, in sintesi, si caratterizza per un rapporto fra gestione, gestione e controllo dell'azienda diverso da quello ordinario. Consiglio di amministrazione e collegio sindacale sono sostituiti nel sistema duale rispettivamente da un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza. Il quale ultimo, però, ha anche taluni compiti di gestione definiti nello statuto e potere di nomina dei consiglieri di gestione, poteri dunque molto più incisivi rispetto a un mero collegio sindacale. Il modello duale sarebbe ottimo per la RAI, poiché garantirebbe una gestione snella dell'azienda all'interno del consiglio di gestione, composto da un presidente, così si chiama nel sistema duale, e assolutamente paragonabile a un amministratore delegato, e altri due consiglieri, per esempio. Ma non andrei oltre. È un controllo effettivo, efficace, a opera del consiglio di sorveglianza, ma solo su alcune attività e non sul quotidiano dell'azienda. I vantaggi sono, oggi, tenendo i piedi per terra, pur restando la proprietà al tesoro e alla SIAE, se ci mettiamo sul campo di togliere la proprietà non andiamo da nessuna parte, lo faremo dopo, si fa questo primo passaggio, ma insomma, oggi, con questo sistema duale che divide i poteri in questo modo, resta la proprietà del tesoro e della SIAE, si elimina però completamente l'incerenza del governo sulla conduzione aziendale e sulle scelte di gestione, si delinea un più ampio coinvolgimento della società italiana nel suo insieme, attraverso cosa? Attraverso i canali tradizionali, sì, della politica, ma anche dell'economia, della cultura, della rete. Si traduce in pratica lo slogan fuori i partiti dalla RAI e si implementa lo slogan la RAI ai cittadini. Si affida al Presidente, di fatto un amministratore delegato, affiancato da due amministratori scelti dal Consiglio di sorveglianza, il compito di guidare la RAI, la responsabilità nella gestione del giorno per giorno e nella proposta di scelte strategiche di medio e lungo periodo. In questa proposta il Consiglio di sorveglianza deve essere largo, ampio, rappresentativo e quindi nella proposta che ho fatto io è composto da 21 membri, ma può essere anche portato a 15. Qui si discute nel senso che non è una tavola di Mosè. Io ho pensato che se sono 21, 7 indicati dai Presidenti di Camera e Senato, sentiti i suggerimenti dei partiti ovviamente che compongono il Parlamento, due dalla conferenza Stato-Regioni, due dal Lanci, uno dal CNR, uno dalla Federazione Nazionale della Stampa, uno dalla Federazione degli Editori, uno dall'APT, uno dall'ANICA, uno dai sindacati, uno dalla Confindustria, una conferenza dei Rettori e uno dall'Associazione dei Gestori della Rete. Fa 21 e sono rappresentati tanti pezzi di società che sono interessati a che ci sia un servizio pubblico efficiente in grado di dare delle risposte concrete. Naturalmente si possono immaginare anche altre proposte senza snaturare il sistema duale. Per esempio si può pensare di portare a 15 anziché a 21. Si può variare la composizione tutta affidata alla politica e quindi a Presidenti di Camera e Senato oppure mista, come nella proposta che ho indicato io. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza è scelto a maggioranza fra i 21 membri e ha il potere di convocare il Consiglio. Al Consiglio di Sorveglianza sono affidati i compiti tipici di controllo attribuiti al Consiglio di Sorveglianza dal diritto societario, dal diritto societario attuale. Più i seguenti. La nomina, a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio di Gestione, tra cui il Presidente, che secondo me deve essere indicato dall'Azionista Tesoro oppure indicato dai Presidenti di Camera e Senato. Se si può anche immaginare che a proporre il Presidente del Consiglio di Gestione sia il Presidente della Repubblica, in questo caso basta l'accettazione da parte del Consiglio di Sorveglianza, non c'è bisogno che voti. La nomina, a maggioranza semplice, degli altri due componenti del Consiglio di Gestione. Così come il Consiglio di Sorveglianza ha il potere di nomina anche il potere di revoca del Consiglio di Gestione. L'approvazione del bilancio della nuova RAI spetta al Consiglio di Sorveglianza. Sul piano industriale e sul piano editoriale esprimi un parere qualificato, con eventuale monito al Consiglio di Gestione, se non è d'accordo. L'approvazione di investimenti superiori ai 20 milioni di euro. Il controllo sul rispetto delle finalità di servizio pubblico, così come indicate dalla Convenzione e dal contratto di servizio. L'accesso a tutta la documentazione necessaria per avere trimestralmente un quadro aggiornato dell'andamento dell'azienda. Ora, il Consiglio di Gestione, che è formato, ripeto, dal Presidente e da due consiglieri, sono delegate la guida e la scelta strategica di medio e lungo periodo dell'azienda. Il Presidente può delegare compiti precisi ai due componenti del Consiglio di Gestione, sulla base delle loro competenze, finanza, rapporti con i territori, altro. Il Consiglio di Gestione è affiancato, con poteri consultivi, da un comitato di direttori RAI, che si riunisce ogni qualvolta, ci sono decisioni strategiche, questo è copiato pari pari dalla BBC. Politica del personale, grandi investimenti, progetti di profonda riorganizzazione, e nomine di nuovi direttori di rete e di telegiornali. Su queste nomine, un potere esclusivo, totale, al Presidente nuovo, amministratore delegato, che non abbia anche una condivisione con il gruppo dirigente, secondo me, diciamo, questo aiuta meglio, anche se poi la responsabilità e la decisione finale aspetta uno. La durata in carica, sei anni, non rinnovabili, per il Consiglio di Sorveglianza. Tre, rinnovabili, due volte, per il Consiglio di Gestione. I compensi. Ai membri del Consiglio di Sorveglianza, nella mia proposta sono 21, è riconosciuto un mero rimborso spese e un gettone di presenza ogni qualvolta si riunisce, ogni tre mesi. Non più di una volta al mese, comunque, e almeno una volta ogni tre mesi, per principio. Ai componenti del Consiglio di Gestione, con deleghe concordate, spetta un compenso, io dico, non superiore ai tetti fissati dal Governo per gli amministratori pubblici. Qui tocchiamo una corda dolente, perché sappiamo che molti amministratori considerano questo un handicap, però, diciamo, ci siamo dati queste regole, almeno nell'azienda di servizio pubblico rispettiamola. Dopo la prima nomina, il Presidente del Consiglio di Gestione ha demandato il compito di preparare, e questo è un punto decisivo, in sei mesi al massimo, un progetto di riorganizzazione del servizio pubblico che verrà sottoposto a un primo parere del Consiglio di Sorveglianza e presentato alle commissioni competenti della Camera e del Senato per un voto conclusivo. I paletti della riorganizzazione si ispireranno, questo dico io, a quello che ho chiamato il grande ascolto, la consultazione pubblica che il Ministero delle Comunicazioni deve organizzare, coinvolgendo gli stakeholders l'opinione pubblica anche attraverso la rete. L'esperienza maturata da chi il modello di governance duale lo ha già sperimentato, suggerisce alcuni chiaramente indispensabili da inserire nello statuto, e questo al fine di evitare ambiguità e conflitti di competenza fra Consigli di Sorveglianza e Consiglio di Gestione si è verificato in alcune banche, perché sono di nomina partitica, qui è ben diversa la cosa, e quindi se si chiarisce bene quali sono i limiti dell'uno e i poteri dell'altro, si può mettere in piedi un sistema che non fa gli errori che hanno fatto alcuni consigli di gestione, e di sorveglianza delle fondazioni bancarie. Quanto al controllo parlamentare, io consiglio di sciogliere la Commissione bicamerale di Vigilanza sulla RAI, affidare a una Commissione permanente della Camera il compito di legiferare sui temi della comunicazione. Ancora meglio sarebbe istituire una Commissione parlamentare ad hoc, una Commissione media e agenda digitale, mettendo fine all'attuale contraddittoria situazione per cui di comunicazione si occupa la Commissione trasporti alla Camera e la Commissione lavori pubblici al Senato. Come vedete, diciamo, è ambizioso questo progetto, non credo, è molto realistico, è anche facile. Se si vuole, si può mettere in cantiere rapidissimamente, perché non c'è bisogno di andare contro nulla di particolare, ma si mette in campo un'azione che consentirebbe al Paese intanto di prendere atto che effettivamente questo Governo vuol fare qualcosa di serio sul futuro del servizio pubblico. Sei mesi affidati al nuovo Presidente e amministratore delegato per dirci come vorrebbe riorganizzare la RAI, ci consentono di immaginare, perché che prima ci sia un dibattito parlamentare, penso che sia necessario, in quel dibattito parlamentare si può dire ed elencare tutte le cose su cui è giusto che intervenga un Presidente e amministratore delegato. Ha senso avere 15 reti digitali terrestri per il servizio pubblico? Ha senso tenere unito RaiWay con la RAI, con un casino che c'è nelle frequenze? Ha senso l'attuale situazione organizzativa con i territori dove non funziona nulla? Tutti si lamentano che ci sono troppi giornalisti e la risposta del cittadino normale è che il servizio non è all'altezza? Sono tutti punti sui quali un Presidente, amministratore delegato, avendo linee guida indicate da un serio dibattito parlamentare, questo serio, diciamo, sottolineo tre volte, non è detto che lo sia, perché c'è stato alcuni anni fa un dibattito che doveva essere serio sul futuro della RAI in Parlamento, è stato un disastro, perché ognuno ragionava come ragionano ancora tuttora molti politici. Quanti minuti avrò io? Come riesco a farmi vedere? E qui il problema è più serio, il problema è che noi ci giochiamo il futuro di una grande azienda in un momento in cui siamo in presenza di una rivoluzione fantastica per certi versi, ma anche tutte le rivoluzioni hanno del fantastico, ma anche del pericoloso. La rivoluzione digitale sta sconvolgendo tutto il mercato. Basta, potrei andare avanti l'ora perché non su questo, ma il tema della RAI mi appassiona, ma comunque mi pare aver indicato una soluzione, è concreta, nei fatti. Vediamo se questa classe politica, questo governo soprattutto, perché poi l'accompito secondo me è del governo di accettare o no e spingere il Parlamento a muoversi, deciderà di fare questo passo che è indispensabile. A parole si è sentito dire dal sottosegretario le comunicazioni che avremmo fatto, il grande ascolto, non è successo nulla. A parole abbiamo sentito dire che il rinnovo della convenzione avveniva un anno prima, non è più possibile. A parole abbiamo sentito dire che ci sarà un canone, cioè non ci sarà più il canone, cioè ci sarà un'altra roba. Allora, questo è arrivato il momento di dire le cose con chiarezza e assumersi la responsabilità di quello che si dice. Grazie. Grazie a te Carlo. Un evento molto interessante anche perché avete visto che le proposte che Rognoni elenca sono tutte costruite sui punti più vistosi di crisi del sistema radio televisivo e soprattutto del servizio pubblico. Lo ringrazio complessivamente per gli interventi fatti in questa stanza, in quest'aula, perché messi insieme poi danno anche un metodo interessante anche legato agli interventi precedenti perché avete visto che c'è una fissazione di nodi chiave, un'argomentazione anche di sistema di quello che sta succedendo con la promessa anche che noi il libro di Guglielmi e Balassoni lo discuteremo sicuramente anche al dottorato di comunicazione e infine delle proposte operative. Grazie.